Sembra quasi un Modena inarrestabile, si potrebbe dire, anche se gli avversari non sono di primissimo piano, però vittorie importanti, 3x3 a 0, 1x3 a 1. La squadra del tuo maestro Silvano Prandi, caro Franco Bertoli, si sta facendo onore. Che Modena è quella che abbiamo visto finora? È una Modena che gioca bene, che ha costanza di rendimento verso l'alto, come hai detto giù. Non saranno grandissime squadre, però ha battuto tutti. La stessa Gabecca ha battuto a domenica 3x1, non era una squadra facile da battere. L'anno scorso aveva quasi sfiorato la semifinale, quindi una squadra preparata forte e Modena le sta mettendo tutte in fila dietro. Ha fatto un 3x2 con Macerata, che comunque è una partita giocata alla pari. Adesso viene il bello, però con una certa tranquillità e soprattutto nello sport, sai, quando vinci e vinci con continuità, prendi sempre più fiducia nei tuoi mezzi. Tanto fino in cascina per evitare di poi rimanere sorpresi dalle gare che cominciano domani sera. Domani sera c'è una classica del campionato italiano e per la prima volta dopo alcuni anni vale, anche se siamo soltanto alla settima giornata, per i livelli alti della classifica. Modena-Treviso? Modena-Treviso come una volta, quando si giocava per i vertici, per lo scudetto, è presto, siamo nelle prime giornate, però è uno scontro importante. Anche Treviso ha rinnovato un po' la squadra, ha puntato su giovani come Hosting, ha lasciato andare Cisolla. È un progetto che sta funzionando anche quello di Treviso, quindi la gara di domani sera a Sisley e Modena-Trenkwalder sarà un test importante per il futuro del campionato, per capire chi può ambire veramente ai posti alti della classifica. Tu lo conosci bene, come poter vivere da Re questa situazione, dopo quasi 30 anni di successi dall'altra parte, per la prima volta contro e a Modena? Beh, secondo me è un po' arrabbiato con la Sisley perché il rapporto tra lui e la Sisley è finito veramente male, quindi credo che dentro di sé abbia voglia di rivincita. Questa squadra l'ha costruita abbastanza lui, anche la scommessa di Silvano Prandi, allenatore, quindi sicuramente la vivrà con grandissima emozione e sicuramente si augurerà dentro di sé di far vedere a quelli della Sisley che non meritava quel trattamento. Ultima cosa su Silvano Prandi che pare di aver anche rivitalizzato con i giocatori Dennis su tutti e ha trovato anche il giusto posto ai nuovi arrivati. Sì, Silvano dimostra di essere molto bravo, d'altronde non lo scopriamo noi, ha fatto benissimo dappertutto dove è andato, perché lui comunque riesce a ottenere il massimo dai suoi giocatori e questo non è poco, per cui la diagonale palleggiatore-esco con Dennis sta funzionando bene, ma stanno funzionando bene anche i rincalzi perché Prandi usa bene tutta la panchina, Biribanti è entrato molto bene in qualche momento, domenica Casoli viene usato anche lui spesso durante la partita, quindi il merito più grande secondo me di Silvano Prandi è di aver portato tutti e 10-12 giocatori al top del loro rendimento massimo possibile, stanno giocando bene per quello che possono, hanno ancora qualche margine di miglioramento, ci vorrebbe qualche risultato importante come quello con la Sisley, oppure sabato a Modena contro Cuneo, un altro scontro di alto livello.